Ciao ragazzi Ciao 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 Allora 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 Come 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 state Questo sarà un video Di solo whispering Molto molto al buio Come vedete Perché me l'avete chiesto E ne approfitto Di questo sabato sera Buttato un po' al vento Perché Dovevo uscire Mi ero preparata Mi ero truccata Come vedete Ma sono stata Pidonata Paccata Appesa Da mio fratello Quindi Ho detto Ne approfitto Per fare Per fare un video Che mi avete chiesto A me piacciono molto Mi piace molto Guardare questi video Poi Perché Sono quelli che mi rilassano di più Spero Non faccia troppo Contrasso con la luce Buttata in faccia E Se sentite un rumore Come al solito È il Condizionatore Perché Fa ancora molto caldo Per stare chiusi dentro E per fare un video Mi chiedo scusa se si sente Ma io non lo sento molto Tuttavia qualcuno me l'ha detto Nei commenti Mi dispiace se vi do fastidio Ma fa ancora molto caldo Allora Tornando a noi Come vedete Io ho anche il microfono Proprio in mano Quindi è proprio Una whispering Intenso 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 Come non facevo Da tanto tempo E mi andava di Fare qualcosa Di non programmato Uno perché Non avevo preparato niente Due perché È già Più di una settimana Che non carico video Non voglio lasciarvi di nuovo Per tanto Tanto tempo Senza Avrei finito i video Back to school Ma se volete Continuo a farli Perché Sapete che La cartoleria Mi Cioè Fa parte della mia vita Sempre tutto l'anno Non solo Nel periodo di settembre E E E poi perché Non mi ricordo più Cosa stavo dicendo Perché ovviamente Perdo il filo Del discorso Ultimamente Sono proprio Da Sono proprio Spadatissima E Mi avevate anche Chiesto un video Ah Vi volevo dire Se avete richiesto Fatemele Su una cartoleria Ma anche su altro Adesso Non mi andava Di fare Rollplay Eccetera Perché ripeto È Un video Improvvisato E soprattutto Perché Voglio provare Ecco che passano I motorini È faticoso Fare il whispering Perché Viene l'affan Volevo provare A fare Questi video Con Un Con 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 Adoro la Mi Mi autocompiaccio Adesso Un video Con un whispering Molto Molto Lento Perché In effetti Poi avete ragione Io quando parlo Parlo Molto 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 Veloce Quando parlo Normalmente Di conseguenza Anche quando Faccio i video E Perché I miei video Appunto Non sono Programmati Cioè Non hanno L'obiettivo Preciso Di essere Proprio Dei video ASMR Di quelle Che parlano Così Che tra l'altro A me Non piacciono Cioè A me I video Dove Le ASMR Artist Appunto Parlano In questo Modo Io Non Le Sopporto Dico Perché Sospiri Quando Parli Ma A voi Veramente Piacciono Questi video Però Parlare Più Lentamente Ce la Posso Fare Soprattutto Anche Proprio Per me Stessa Cioè Della serie Lucia Rilassati E Perché Io Sono Sempre Con la Mente La Mente È un Trigger Che fa Ecco Quindi Poi mi piace Dello slow Whispering Mi piace Che si sentono Molto Le Consonanti Le Girls E Le Vocali Non Tanto Cioè Forse Le Vocali Sono La Cosa Della ASMR Che Mi piace Meno Vabbè Sto Parlando 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 Tanto Questo Video Sarà Così Spero Che Vi rilasserete Davvero Perché Insomma Mi ha Detto Un paio Di Persone Che Dovevo Farlo Anche Se Poi I Video Richiesti Sono Quelli Meno Guardati Ma Ormai Le Visualizzazioni Veramente Sono Sono Quasi Nulle Se Volessi Guardare Le Visualizzazioni Dei Social Ultimamente Tra Instagram E Youtube Dovrei Chiudere Tutto Il Che Ovviamente Non Farebbe Male a Nessuno Nel Senso Che Nessuno Sicuramente Mi Rimpiangerebbe Però E E Mi Stavo Stavo Accorgendo Di Parlare Di No Troppo In Fredda Che Altro Volevo Dirvi Non Lo So Non So Non So Cosa Facciamo A A Volte Vorrei Fare Anche Delle Dirette Però Nelle Dirette Ho paura Dei Maniaci Poi Ho paura Ho paura Che Siano Poco Guardate Perché Anche Quando Le Faccio Su Instagram Non E Che Ci Siano Molte Persone Che Le Guardino Quindi Sicuramente Anche Lì Ho Sempre Paura Di Di Avere Poco Riscontro Ho paura Di Essere Troppo Grigia Però Vabbè Ormai È Andata Così Perché Poi Ho fatto Le Se avete Altro Da chiedere Fate Pure Io Tra l'altro Ho ancora Quella Testina Che presi Ormai Due Anni Fa Forse Perché Sapete Che Il 2020 È Col Balcone Chiuso All'ultimo Piano E Quella Testina Mi arrivano Ancora Dei Commenti Su Quella Testina Se Volete Che Faccia Altri Role Play Io La Faccio Li Farò Credo Dalla Non Lo So Perché Adesso Per A parte Gli Esami La Sessione Di Settembre Poi Ricomincio Anche A Lavorare Quindi Credo Che I Video Potrò Farli O La Mattina O La Sera Quindi Un Po Buio Con Questo Lugio Un Po Così Perché Poi La Sera Più C'è Buio Più Mi Piace Che Ci Sia Buio C'è Non È Che Accendo Le Potto Vi Appoggio Un Attimo Allora Io Ho Prima Devo provare A fare Qualche Video Con Come si Chiama Quella Specie Di Tuopo Che Ti Mette Sul Microfono Perché Ce l'ho Nel Set Del Microfono Ma Non L'ho Mai Usato Invece Della Spugna Come si Chiama Quello Lì Antivento Non L'ho Mai Fatti Con Quello Lì Devo Provare La Prossima volta Per Chi Si Sente Molto Il Respiro Vedete Oddio Tutte le Strombazzine Faccio Col Noso Allora Io Molto Molto Già Presi Questo Vedete Questi Come si Chiamano Finger Cosa Qualcosa Non capisco Se sta Lampeggiando Qualcosa Di nuovo Qualcosa Di vecchio Qualcosa Di chissà Se si Spegne All'improvviso O è perché Scarica La Batteria O Qualcosa Io A volte Questa Fotocamera La Capisco Non La Capisco La Devo Caricare Ad Ogni Video Perché Se No Mi Crolla Allora Presi Questi Presi Questo Colo De Cinese Lo Volevo Prendere Su Amazon Ma Alla Fine L'ho Trovato Il Cinese E Ho Preso La Forma Del Gelato Come Si Chiamano Questi Cosi Finger Qualcosa Usiamolo Non l'ho mai Usato L'ho preso A posto Per il Video Sempre I video Ma Non li ho mai Usati Io Non so Neanche Usarli Cioè Proprio Della Sera Cosa Dovrebbero Servire Questi Cosi Dovrebbero Essere Anti 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 Stress Mi Servirebbero Una Caterba Di Queste Cosi Questi Secondo Mi Sono Molto Più Visual Visual Triggers Visual Che Che Proprio Per Il Suono Perché Questi Colori Mi 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 Sembra Davvero Che Io Abbia L'affanno Anche Sempre Mi 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 Come chiamerò questo video? A volte io penso ai titoli e alle anteprime, no? Poi lo chiamerò rilassati al buio Rilassati non sabato sera Quando qualcuno ti appende E a volte vorrei mettere titoli ironici ai video Sapete che sono sempre, quasi sempre nella mia vita ironica Quindi vorrei farlo anche su Youtube Però poi dico, beh, già le visualizzazioni sono Basta, metto pure i titoli idioti e buonanotte Eugenio, Eugenio, Eugenio You're a genius Genius, 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 genius Oggi ho mangiato un sushi, ragazzi Che mamma mia Mia madre me lo sta prendendo tutti i sabati Grazie Perché me lo procura Già ve lo dissi nel video di Tinsa Praticamente il mio pescivendolo E parte coloratissima Ma poi è proprio buono, 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 buono Adoro, adoro Questo video non ha molto senso, ma ragazzi Cosa ha senso nella vita Io direi quasi nulla ormai Non so neanche se Sono a fuoco Perché intanto mi smuoca Proviamo a fare con un pennellino Qualcosa sul microfonino Che me l'avete chiesto Che bello è che Perché io non ho messo la luce Quella lì La ring light O già praticamente Ho gesto la luce della lampada Che sono comunque dei led Ma sono molto Chiari rispetto alla ring light Proprio per Sparaflesciarmi ancora di più La luce in faccia Perché poi Se fuori È molto buio E ho tutta questa luce in faccia Vi ricordate anche i video Degli evidenziatori Con la luce tutta Che cambiava colore Mamma mia Io quelli Li ho adorati Ho adorato fare quei video Mi piacciono Mi piacciono questi video tutti Che non hanno senso Mi piace quello che non ha senso Perché tanto comunque Anche a trovarcelo Un senso alle cose Non c'è lo stesso Inutile cercare il senso delle cose Tanto non c'è Inutile cercare il senso dei motorini Che passano Perché tanto non c'è Cosa me ne fate di quelli youtuber Che cercano di rilassarvi Facendo Cacciando via I pensieri negativi E cercando il buono Della vita E il bello della vita Questo non è uno di quei canali No Questo è un canale Dove si parla veloce Dove si accende una fotocamera E non si sa dove si va a finire Dove i video Sono programmati Un po' così Alla cacchia di cane Però 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 È bello anche non avere senso Pazzia 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 Io spero che Le altre persone che seguite E gli altri canali che seguite Siano Un po' meno sceroccati di me Pazzia 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 PZZI Pazzia 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 siccome sta finendo il tempo ragazzi io alla fine parlando parlando di stupidaggini comunque sto finendo il tempo diciamo quindi io comincio a fare diciamo il countdown della buonanotte e a parte tutto a parte tutte le stupidaggini davvero che dico spero 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 che stiate bene e che davvero vi rilassiate nei video buonanotte 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 violino buonanotte 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 ragazzi Buonanotte 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 Buonanotte